ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il parafarmaco c'è il plus alta definizione fango a cosa serve c'è il plus alta definizione fango a un parafarmaco appartenente alla categoria degli trattamenti anticellulite è commercializzato in italia dall'azienda bios line spa informazioni commerciali titolare bios line spa concessionario bios line spa categoria di appartenenza trattamenti anticellulite confezioni cel plus alta definizione fango crema ultraattivo 500 g indicazioni contro gli inestetismi cutanei della cellulite e le adiposità localizzate con attivatore di snellimento critmo maritimum e acido carnosico più escina liposomiale modalità d'uso applicare uno strato uniforme sulle zone del corpo da trattare e lasciare agire per 20 minuti per un effetto maggiore avvolgere le parti trattate con una pellicola al termine sciacquare con abbondante acqua tiepida usare il fango uno o due volte la settimana è possibile avvertire un leggero pizzicore arrossamento e una momentanea sensazione di freddo che scompaiono in breve tempo evitare il contatto con gli occhi e le mucose descrizione e caratteristiche un speciale trattamento contro gli inestetismi della cellulite sia recente che di vecchia data senza parabeni le argille micronizzate il sale marino e le scina liposomiale aiutano a contrastare la ritenzione idrica mentre le alghe azzurre delle bretagna e l'attivatore di snellimento critmo maritimum e acido carnosico aiutano a riattivare la microcircolazione cutanea ea migliorare le adiposità localizzate la presenza di oli essenziali lascia sul corpo una sensazione di frescezza e la pelle appare piattonica e compata senza iodio 97 per cento ingredienti di origine naturale dermatologicamente testato adatto a vegani componenti e ingredienti acqua bentonite propanediol caffeine eucalyptus globulus lea foil centella asiatica extract rosmarinus officinalis lea f extract sea salt menti nicotinate vanille il bucli ether mentol maltodextrin lecitine sheen gelidium cartilaginium extract critmo maritimum extract glicerine citrus limon pelle oil bulga in ville asectrabili se lea cele extract fenoxietanol ascorbic acid troppo l'ane caprile il glicol silica potassium sorbate sodium benzoate sodium deidrocetate idroxi aceto fenone benzi l'alcool di limonene fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo paratarmaco esaminato